Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche e romantiche per la prima metà di luglio 2024. Abbiamo la morte amici dei gemelli, periodo di tagli probabilmente, potrebbero essere tagli nel modo di pensare, tagli con le vecchie abitudini, con dinamiche di comportamento. Normalmente è una buona carta perché parla di un nuovo inizio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il link per il primo e il secondo semestre del 2024 per l'estate e c'è anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per i prossimi 15 giorni, 20. Allora abbiamo un fante di pentacoli, una regina di coppe, fante di bastoni, regina di spade, ruota della fortuna, 4 di bastoni e 5 di coppe. Allora devo dire che tutto sommato, adesso potrei parlare di vostra energia e energie del o della partner, tenete presente che in questo tipo di letture possono essere invertite. Poi adesso andiamo a vedere un po' l'energia in generale così, dopo andrò un po' più nello specifico con le coppie magari che sono in una relazione da tanto tempo piuttosto che le neocoppie o le neorelazioni, conoscenze insomma. E andremo anche a vedere le relazioni non ben definite. Io qui ho come la sensazione ragazzi che ci sarà una sorta di caduta dei giochi, caduta degli schemi, proprio perché vedo questa morte, questo fante di pentacoli al contrario. Qui ho come la sensazione che qualcuno un po' si risveglierà da una sorta di torpore. Andiamo a vedere fante. abbiamo temperanza e asso di coppe. Ho la sensazione per qualcuno che avete state un po' vibrando in una sorta di relazione genitore figlio. Come se doveste prendervi voi cura o occuparvi voi di certi temi all'interno della relazione. Magari di sostenere l'altro, magari di consigliarlo, come l'idea che sia un po' così, che ci sia una sorta di presa di consapevolezza del fatto che l'altro forse non è così maturo come ve lo aspettavate, come pensavate o come siete voi. Andiamo a vedere la regina di coppe. Mago, 9 di spade e 9 di bastoni. Devo dire che questo mago al contrario mi fa pensare che ci sia come una parte emotiva, tra voi due, ma manchi la concretezza. Andiamo a vedere il fante. Uh la la, torre 8 di spade. Datemi una carta per la torre, 4 di spade. Ho come la sensazione che l'atteggiamento del partner o della partner sia abbastanza affatti suoi in questo periodo ragazzi. C'è comunque tra la torre e la morte, una sorta di rottura degli schemi di comportamento. Come l'idea che l'altra persona potrebbe un po' isolarsi, potrebbe un po' distanziarsi, potrebbe avere un po' la testa affatti suoi. Andiamo a vedere la regina di spade. Uh, forza e morte. Voglio andare a vedere ancora la ruota della fortuna, asso di spade e 8 di coppe. Andiamo a vedere anche il 4 di bastoni. Re di spade. Allora, sento che siete come in una fase, nel prossimo periodo, di scelta, di decisione, di valutazione, se è il caso di continuare effettivamente su questa strada, oppure se mi viene da dire è il caso di lasciar perdere, ragazzi, perché qui ho come la sensazione con questa ruota della fortuna che le cose non cambino, che ci sia come un qualche tipo di, come vi posso dire, ciclo. Potrebbe essere una verità, più che un ciclo, un qualche tipo di cosa di cui voi vi rendete conto e di cui vi eravate già resi conto in passato, che è come se si ripresentasse. Io qui ho la sensazione che l'altra persona, di fare un passo, non sia esattamente nelle sue corde in questo momento. Sarete, sareste più voi, secondo me. C'è come questo atteggiamento, appunto, come vi dicevo prima, di genitore e figlio, di occuparsi dell'altra persona. Tra la forza e la morte sento che è come se ci fosse una sorta di forzatura, mi viene da dire. Faccio così perché così ottengo questo, mi metto questa regola perché sono convinto che così facendo ottenga quel risultato. Però qui ho come l'idea che quel risultato lì che voi volevate, no, non si presenti. Anzi, vi dirò che sì, la regina di coppe parla di sentimenti di un certo tipo, di una certa, diciamo così, maturità, ma è anche vero che parla di emozioni altalenanti, super, cioè, come vi posso dire, è una di quelle energie dove l'emozione può passare in un attimo ad un picco e nell'attimo dopo ad un down pazzesco. Un momento prima sono felice e il momento dopo non so perché sono triste, perché mi assalgono le paure, perché mi assalgono i dubbi, perché fondamentalmente è una questione di, ma penso che sia per entrambe, è come se aveste paura che una certa dinamica si ripetesse, ma perché probabilmente si ripete. Può essere una dinamica verbale, una dinamica mentale, qualcosa legato all'essere stabili, anche a vivere insieme per qualcuno. Andiamo a vedere queste 5 di coppe. Diavolo, 7 di pentacoli, ce n'è ancora una. Regina di coppe nuovamente, 10 di bastoni. Guardate, io ho un po' l'idea che se siete del filone, cioè se vi risuona questa cosa che state un po' facendo da genitori al partner, per X motivi, magari perché lo sostenete, magari perché guidate, magari perché A, B e C, ho l'idea che qui vi renderete un po' conto, con una chiarezza mentale notevole, mi viene da dire, con la regina di spade, che potrebbe non essere una relazione nel lungo periodo favorevole per voi. Ho come l'idea con queste carte che lascerete andare la persona e per quello che c'è la morte. Se la relazione... Tenete presente che la morte non parla solo di fine, parla anche di rinascita. Però, considerato che qui abbiamo un diavolo, è una ruota della fortuna che si incastra, è come se foste lì lì per dire, faccio un cambio, mi butto o non mi butto, ma la persona non vi risuona al 100%, soprattutto ci sono vecchie paure, vecchie situazioni che vi risuonano ancora. E io ho un po' l'idea che preferiate gettare la spugna, lasciar perdere quel determinato tema all'interno della relazione, piuttosto che la relazione in sé, invece che magari provare e... Sento che per qualcuno ci sarà come un auto ultimatum, cioè è un po' come se vi diceste, gli do o le do tempo fino a, poi decido. Se foste in una nuova relazione, o comunque in una conoscenza, o qualche cosa iniziato da poco, qui il consiglio è proprio di non entrare in questo ruolo univocamente, cioè finché le cose sono in equilibrio è bellissimo, però nel momento in cui voi vi rendete conto che l'altra persona è molto focalizzata su di voi, scusate, è molto focalizzata su di sé, e a voi non convince più di tanto, ecco, cercate subito di dettare le regole, mi viene da dire. Il punto qua è mantenere una comunicazione chiara. E vi dico che per qualcuno di voi potrebbe esserci come una situazione di attesa ad un certo punto. Se siete in una relazione non ben definita, io sento che, ragazzi, le cose sono uguali, si ripetono, sapete già di che cosa sto parlando, perché qua avete un 9 di spade che mi parla di pensieri, di preoccupazioni legati a problemi del passato, e del 9 di bastoni che mi parla di qualcuno che ha già preso un duro colpo alla fascia, la persona, quindi devo dire che ci siete già passati di lì, è per quello che ad un certo punto, secondo me, preferirete o lasciare direttamente perdere la persona, o se è un tema, nello specifico all'interno della relazione, lasciar perdere questo tema, che potrebbe essere la convivenza per qualcuno, per qualcun altro potrebbe essere magari avere dei figli, chiaro, in una relazione non ben definita, magari non è proprio il discorso figli, quello principale, ma potrebbe anche essere un progetto insieme, o che cosa vogliamo dalla relazione, o cose per lo stile. Sento che sarà un periodo dove andrete avanti un po' come un caterpillar, più per vedere poi come si evolvono le cose. Sinceramente vi sento ben predisposti, però fate attenzione appunto a non entrare in questo ruolo genitoriale, dove siete troppo per l'altro. Vediamo una carta delle fatine, vediamo che cosa vi consigliano. Guardate ragazzi, qui c'è una torre. Devo dire che può anche essere che alla vostra controparte, effettivamente possa succedere un qualche tipo di situazione, per cui questa persona abbia bisogno di stare un po' da sola, schiarirsi le idee come se avessi bisogno di rigenerarsi. E può essere che questa sorta di distanza e di sostegno che io sento sia perché proprio la persona sta vivendo una situazione un po' frustrante, condizionante. Però è come se qua vi chiedeste voglio infilarmi in questa relazione con questa persona, voglio continuare la relazione con questa persona, sono in grado di sostenere la relazione con questa persona? perché qui con il 10 di bastoni sento che è come se ci fossero dei pesi che dovete lasciarvi indietro. Andiamo a vedere le fatine. Prosperità! Oh ma che bella carta! Sì, qui si tratta, guardate, vedo prosperità, vedo la regina di coppe e mi arriva l'imperatrice. Ho come l'idea che vi dicano che siete nell'abbondanza, sia materiale in un certo senso, ma direi anche vedendo queste carte soprattutto caratteriale per far fronte con successo a questa scelta. Qui il punto è sono disposta o disposto a sostenere l'altra persona perché sento che è come se avesse bisogno di sostegno perché probabilmente capita qualche cosa per cui la fa allontanare dalla relazione o da voi. però è un'arma a doppio taglio quello che sento perché in questi casi molte volte poi l'altra persona tende ad appoggiarsi e non è più un rapporto paritario è un rapporto di io ho i problemi e tu me li risolvi e non va bene ognuno deve essere interdipendente all'interno della relazione. Difatti, prima di tutto ama te stesso il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti non siate troppo per gli altri a parte che poi gli altri si abituano e pretendono e poi non sono più indipendenti in realtà è un aiuto nell'immediato ma non crescono se si continua a togliere cioè a risolvere i problemi in posto loro. Luna di miele godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza qui sento un po' come se vi dicessero di assaporare i piccoli momenti le piccole cose di tutti i giorni wow anima gemella ragazzi sì, questa persona è proprio la tua anima gemella beh oddio io ho tutta una mia teoria sulle anime gemelle ragazzi prima o poi farò un video anche ve la spiego e qui non ho riferimenti in questo senso all'anima gemella ok nel senso più conosciuto del della parola però diciamo che ci potrebbe essere effettivamente questa conoscenza se ve la devo dire beh sì ho il quattro di bastoni ma ce n'è una sola ragazzi poi abbiamo ruota della fortuna abbiamo la torre abbiamo il diavolo forse potrebbe essere più diciamo un'anima predestinata che dovevate conoscere tutte le persone che noi conosciamo le conosciamo perché fanno evolvere la nostra anima incrociano il nostro cammino perché in qualche modo ci danno un input in avanti poi se ce lo danno nel bene quindi la relazione cresce in luce si può parlare di anima gemella se ci sono continui problemi continui litigi alti e bassi prendi e molla difficoltà non si va mai avanti quella potrebbe essere una relazione karmica magari tutte e due fanno crescere solo che uno fa crescere attraverso la gioia diciamo attraverso l'amore non è che non ci siano problemi ci sono i problemi però si risolvono diversamente invece nelle relazioni diciamo tossiche è facile che sia un'anima karmica con la quale si deve soppesare un karma va bene ragazzi questo è quello che avevo per voi fatemi sapere nella lettura scusate fatemi sapere nei commenti se vi risuona la lettura e se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi condividere il video o anche lasciare una piccola donazione e voglio ringraziare tutte le persone che lo fanno per quello che riguarda il percorso di crescita se volete iniziarlo con me potete scrivermi una mail per fissare una sessione individuale oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale per sapere di che temi tratto insomma potete sempre dare un'occhiata alle playlist sono quelle con le copertine viola almeno vi rendete conto di che temi tratto fondamentalmente è metafisica temi di come elaborare i traumi sono meditazioni e tutto quanto si possa fare in ordine di senso logico di come serve serve fare ogni singolo lavoro per prima pulire noi stessi il nostro campo energetico al fine di manifestare la realtà che noi vogliamo comunque date un'occhiata ai titoli dei video io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao